Sono stati 48.000, 2.000 in più rispetto allo scorso anno, i visitatori della Fiera di Sant'Alessandro che si è conclusa ieri a Bergamo, presso la Fiera Nuova. Una manifestazione su un'area di 50.000 m2 che ha fornito un quadro completo del settore, ospitando l'agroalimentare, il comparto delle macchine agricole, la zootecnia e quest'anno anche il concorso dei Puro Sangue Arabi. Il maggior afflusso di visitatori si è registrato nella giornata di venerdì che gli organizzatori della Promobre hanno voluto lasciare ad ingresso gratuito per consentire davvero a tutti, anche alle fasce più deboli, di poter partecipare all'evento. Sono stati 200 gli espositori provenienti da 13 regioni italiane e 4 nazioni straniere. In fiera sono stati portati 400 capi di bestiame ed oltre 200 cavalli. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle premiazioni dei diversi concorsi. Per il bestiame sono state incoronate le tre regine. Per la Frisona, Carlotta, dell'azienda Fumagalli di Bottanuco. Per la Bruna, Deghi Zaster. Per la Red Holstein, Deghi Mr. Burn, dell'azienda Angelo Giuponi di San Pellegrino.